Folle Casarano Eleonore Joe micron E suce Latteristica unserer US rovo watery Essendo in derby questo match è stato molto agguerrito, loro venivano con lo scopo di prendere punte assolutamente. Sono riusciti a metterci in difficoltà in un paio di fondamentali quali la ricezione e il muro. Uno dei due è migliorato durante la partita, l'altro è andato sempre a corrente alternata, però per fortuna siamo riusciti a prendere questi tre punti importanti per questo proseguo del campionato. Manuela, da donna, da allenatrice in seconda e da grande sportiva, quanto è importante per te la giornata di oggi contro la violenza sulle donne e quanto è importante anche commemorarla nel mondo dello sport? Senza ombra di dubbio il fatto di essere l'unica donna in una squadra maschile può sembrare strano, però in una giornata come questa dove è fatta proprio per ricordare che non ci devono essere violenze sulle donne è ancora più importante. Più importante perché si dà proprio importanza al ruolo della donna in generale, al di là che frequenti lo sport, che faccia sport o al di fuori nella vita quotidiana. In ogni situazione comunque deve essere fatta proprio per evitare il verificarsi di eventi come quello che è accaduto, proprio il ricordo di questa manifestazione.